Si è lanciata un'idea che ho raccolto, poi vedremo come, e a un certo punto è emerso che tra questi ragazzi, molti di loro hanno partecipato non soltanto a queste Olimpiadi, ma anche a quelli di altre discipline. E allora hanno detto, ma perché non lanciare un pentathlon? Sarebbe un'idea, io ne parlerò con le società europee di filosofia, potrebbe essere una cosa che la società italiana e il New York possono anticipare. E l'altra cosa che vorrei dire quando si farà il premio, tra poco, è che mi piacerebbe invitare a Bruxelles, ogni anno finché sono in Parlamento almeno, far rivenire anche la Commissione di Cultura, i ragazzi italiani vincitori di quell'anno.